eh no ci vorrebbe la forse la nuova il gato quella quella non hd 60s ma quell'altra quella che fa anche il 4k non c'ho voglia di spendere anche in quella va bene direi che di spese ne abbiamo fatte anche troppe basta no shizukina non essere triste va bene dai spendo altri 200 euro le spese coi pazzi drogati allora è simpatico eh perché è simpatico non è non è uno stronzo si stava cominciando ad alterare verso la fine però porca puttana lui mi fa allora facciamo pagamento con iban e io gli dico ma non è meglio paypal scusa è più veloce non sappiamo usare tutti ma posso trasferire i soldi da paypal alla carta si non puoi va bene facciamo paypal cosa ha fatto lui si è creato paypal in quel preciso momento si è creato il conto soltanto perché io lo pagassi io pensavo lo avesse già installato pensavo avesse già convalidato tutto pensavo avesse già messo tutte le informazioni e tutto grazie al cazzo che poi io ti mando i soldi e non puoi trasferirli subito sulla carta se se non è attivo il conto e poi ha gettato merda su paypal e non lo userò mai più e gli ho fatto no dai guarda che paypal è un ottimo conto poi molti siti lo supportano e gg e tutto tranquillo che la procedura per convalidare l'account è veloce fai presto insomma non ne ho idea fixino ne sono dimenticato di chiederlo anch'io mi ha mandato la foto del suo indirizzo perché ha già fatto l'etichetta per il pacco ma non ne ho neanche guardato oggi che si fa boss dungeon o storia sai dov'è il dungeon qui cagherio perché avevamo la statua qua che ci indicava un dungeon che però non ho ancora trovato è dubito che tutta questa arena fosse solo per il boss dai 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 indicami cagherio indicami indicami cagherio scelgo te in fondo all'angolo della spiaggia dove stavo andando io quindi ha fatto lui la spedizione si si ha detto domani porta il pacco ma ha detto che vuole fare anche il selfie col corriere mi ha fatto le foto mi ha fatto vedere l'oculus mi ha fatto vedere l'imballaggio e tutto no no per quello è gg però minchia ha duemila sbattimenti per il pagamento eccolo eccolo catacombe dei caduti in guerra ah ma è proprio dungeon dungeon vabbè ci sarà un boss della domenica qui dai ti ha dato anche il cavo ah non lo so no non ha voluto parlare ulteriormente di quanto ci hai parlato tu fixino ha voluto subito fare il pacco e subito il pagamento e basta non abbiamo manco discusso di robe cioè non abbiamo chiarito nulla cosa cazzo sta succedendo qui dentro il graffo magico vabbè si menano tra loro nooo la marcescenza di della minchia nooo come risalgo ok a ridaglie e niente tacca ma che stronzo sta fermo la gente si mena ma si 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 lo so fixino me l'hai detto immaginavo di dover sottostare sottopormi ancora una volta quel roscio lì maledetto ciao reika reikina mi arrivano anime di gente che si uccide è proprio il groviatore 1201 è nemico eh si ouch quanto tolgono con cosa mi ha colpito ah ma c'ha la mega mazza della minchia bolla no mi preoccupa un po' la scata d'acquisizione ragazzi perché ogni tanto fa uno scattino e vorrei ricordarvi che l'ultima scata d'acquisizione che mi faceva quello scattino è morta però è anche vero che ha cominciato a farlo solo adesso col pc nuovo vorrei capire cosa cazzo è non vorrei rivivere quel trauma oh no evannina mi ha trovato dannazione non ci siamo nascosti abbastanza bene ragazzi è colpa vostra ve l'avevo detto nascondiamoci e voi no tranquillo non ci troverà no guarda uno che ha tutta la vita non ha fatto un cazzo fino adesso calma eh se solo avessi leva eh porca puttana ah gioia ma da dove stanno uscendo fuori questi bam come va col monitor inizia ad abituarti alla curvatura Sì dai Ma per certi utili Per certi utili Buonanotte Per certi versi È utile la curvatura Comunque Poi vabbè A me salva la vita Perché altrimenti Il monitor Non ci sarebbe stato Semplicemente Ma respawnano in eterno Fammi capire Ma quanti ne arrivano? Eh sì Guarda Cioè Respawnano in eterno Sono scarsi in culo E mi danno 1300 anime alla volta Vabbè Oh cazzo Oh cazzo Eeeh E vabbè Ma respawno Ah no Ancora vivo Mi ha fregato Di nuovo Allo stesso modo Di prima Questa ha un bel po' Di più vita Ma dai Ma smettila Ma cosa cazzo fai? E stunati Oh Guarda che L'ho messo su pc A più di 60 fps R2 R2 L'ho messo a Vabbè C'ha il Framerate variabile Ma penso che Sia andato Oltre i 60 No No Questi non respawnano Solo lì All'ingresso Cartino E la differenza L'hai notata Perché tanti Pensano Di 60 Non si noti Ma finché Non capisci La differenza Allora Sarò onesto L'ho notata Ma Non l'ho sentita Necessaria Diciamo così Si vede che Sono di più Si vede che È più Fluido E tutto Però Non lo so Non mi dà Quel Wow Che mi davano I 60 fps Quando li ho visti La prima volta Diciamo così Cioè il passaggio Da 30 a 60 Lo noti Cazzo A 60 120 Lo noti pure Ma Dici Vabbè Ma si vedeva Comunque bene Anche prima Invece con 3 30 fps È impossibile Dire Si vedeva meglio Si vedeva bene Anche prima È quello Roba Viusiusius Con Devil May Cry 5 Si potrebbe provare Adesso è 60 fps Per me Per me È a posto Così Non 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 Sento un vero Bisogno Di averne di più Madonna Quanta vita Che c'hanno Ma l'abbiamo già fatto Ragazzi Abbiamo già fatto Devil May Cry 5 Il 4 avevamo iniziato E poi l'abbiamo droppato Povero 4 Però non ho veramente avuto voglia Di continuarlo Ma c'è Celenina È proprio lei Ragazzi Guardate Lei E c'è È inconfondibile Eh sì Cazzo C'era Era anche Nella Nella prima intro Del canale Come è fatta A dimenticarla Ragazzi Che abbiamo avuto Tanti problemi A streamare Quel gioco Perché la 1060 Non ce la faceva O meglio Non ce la faceva Hobbs Oh cazzo Chi è questo Questo è bello Incazzato Ragazzi No 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 Nella merda No Vabbè Ma il gargoyle Porca puttana Cioè guarda Il più corretto È lui Dovreste vergognarvi tutti E prendere esempio Da lui Cazzo Che non mi sta attaccando Mentre voi stronzi Cercate di stuprarmi Bastardo Maledetto Ma che bravo Che è Un vero uomo D'onore Ah ma solo Perché sta cercando Di uccidere Il cecchino Guardalo Bastardo Quello è Tarcisio No Tarcisio è quasi morto Vannina Guarda Poverino Stavamo combattendo Tanto bene Ceneri di soldati Di Radan Ah Sono i soldati Di Radan Questi Colpa tua Hai rovinato Il nostro scontro Bastardo Cazzo se è bello Vi dirò Il 5 Mi piacerebbe Riportarlo C'è solo una cosa Del 5 Che veramente Non ce la facevo A fare Ragazzi Il gameplay Con V Il gameplay Con V Lo odiavo Se io penso Domecray 5 Dico Cazzo Che figata Però Porca puttana Se dovessi rigiocarlo Ci sarebbero Tutti i capitoli Con V Ecco la leva Quanti pochi muri invisibili Che hanno messo In sto gioco Oh Io ho martellato 80 milioni di muri Io da qui A inizio gioco Soldati di Saddam No Nina Non si dice Quindi lì C'è sicuramente Il boss Ma davvero Hai ancora voglia Di rompere i coglioni Tu Mi ero anche Dimenticato di te Nonostante Hai ucciso Il mio amico Non ti stavo Cagando Stavo tornando Indietro Tu cosa fai Mi aggredisci ancora Sei poco furbo Davvero poco furbo Questa è nuova ragazzi Inventata oggi Scritta e diretta Da me Assolutamente Non plagiata Da altre parti Tutta mia Sta producendo Sta facendo emot Le emot Le emot Presto Presto Le magie Presto Questa è nuova ragazzo What a Oddio Forse non ci arriviamo A 50.000 Che runa maggiore usi Che cazzo è Una runa maggiore Meglio far così Perché tanto Queste le andiamo A perdere Che mo c'è il boss Se non le uso Sono 25.000 anime Che fanno Puff E L1 Per parare Governatore Non dimenticare No Cagare deve mettersi in testa Che tutto ciò Che è stato aggiunto In questo gioco Che non sta Nei dark source Precedenti Io non le conosco E non mi interessa Nemmeno più di tanto Conoscerla E tanto Lo continuerò A giocare Comunque Sempre Come se fosse Uno dei vecchi Giochi Ragazzi Et voilà Giochi col pilota Automatico Più o meno Se le danno Di santa ragione Vediamo Cos'è il boss Ancora È il terzo Ma basta Oh mio dio Ma questo Non levo Un cazzo Perché non Gli levo Un cazzo La vedo dura Qui Mi one shot Adesso mi tocca Imparare Questo boss Cioè È il terzo Che affrontiamo Di questi E non ho mai Dovuto impararlo Perché gli altri Sanno talmente Scarsi Che andavo avanti Menavo E basta Finché morivano Stavolta Mi sa Che ci tocca Imparare Il boss Ragazzi Fortuna Che le anime Le ho già Usate Tutte Ma non Non si capisce Ma che animazione Fa prima di fare La presa Porca puttana A me sembra Faccia sempre La stessa cosa Sì sì Mi fa pure Marcire Così Nel caso Mi rimestasse Un HP Morirei Subito Dopo No Quella mossa Ammazza Non serve Manco nemmeno Che avvelena Tanto Mi uccide Allora Sbatte con la testa E vabbè Chi è che non sbatte Con la testa Zampilla Fa cose Si tuffa Alita Alita in avanti Non sto capendo Granché Fa un casino Di cose Che però Non mi Itano Si è pure Stordito Sto coglionazzo Si vabbè Ma non gli levo Veramente Una fava Manco Così Quella era La preosa Questo boss Stoglie Ogni singola Voglia Di vivere Ma cosa Vuol dire Che qualsiasi Cosa fa One shot Pure Baffandosi Mi one shot Com'è possibile Che abbia più vita E resistenza Del tizio Di prima Che abbiamo fatto Nel deserto Ragazzi Dai C'è qualcosa Che non va Oh Eppure gli tolgo 200 Ha soltanto Un casino Di vita Non è che Ci abbia difesa Fammi bere Pure sta Merda Ovviamente Volannino Volannino C'è un boss Brutto Devo andare Domani mattina Al lavoro Mi acciambello Sotto la copertina Va bene Notte Zufina Ma è pazzo Ma stessa Un attimo Calmo E no E sta merda Mi uccide Oh no Solo se la paro Mi uccide Ok Non la paro E adesso Ogni roba Da marce scienza Qualcuno Sta capendo Qualcosa Esplode Ogni tanto Marce scienza Scarlata Ti informo Prima che si vede Meglio Mi pare di notare Che il titolo Delice È celebrativo Di un certo Date Beh Che GG Lei è veramente Un uomo Di alte conoscenze Se ha capito Subito al volo La citazione Non l'annino GG Si vede meglio Comunque Davvero Ho pacioccato Un pochino A caso Abbassando E alzando Le vette Saluto Albanese Quindi Mi saluta Est Si vede Decisamente Meglio Addirittura Decisamente A me A me Nessuno Ha detto Un cazzo Nalino Pensate Quanto Gliene frega La gente Si accorta Di nulla Rip Vedi Governatore Ha dato per scontato Che parlassimo Del gioco Hai visto Questo conferma Ulteriormente Si la stessa Illuminazione Di sempre Sempre la La lampada Ma dovrebbe essere Più tutto In teoria Dovrebbe avere Una risoluzione Leggermente Migliore Dovrebbe essere Più nitida Meno Sfocata Ma sapete Perché sono Riuscito A migliorarla Ragazzi Perché adesso Avevo Lo schermo Per farlo Io Prima Non notavo La differenza Cioè Mi sono Accorto Che Come era Impostata Prima Faceva Schifo Perché Non L'ho Mai Vista Bene Quella Lì È la Presa Ok L'ho Capita Guarda io ho fatto molto di più così Ma pure da qui mi prende ma dove cazzo devo andare quando lo fa Devo tornare nel deserto fammi capire No Tardi c'era dovevi dirlo prima Dovevi dirlo prima A dopo poi l'annino Ah i giobbi serrano esploditi sono tornati dopo la danne E gli ho purgati senza pietà Bravo cagherio Lo scudo non para quando esplode No sono morto parandolo prima Non so con quale fisica Forse perché fa due danni consecutivi Ti spiego come funziona Questo gioco Se tu pari Rimani In piedi no Il personaggio non viene gettato a terra Quindi con quell'attacco lui subisce due attacchi Il primo gli toglie lo scudo Il secondo lo uccide Se invece me la subisco di tutto senza parare Lui con il primo colpo cade a terra Ma il secondo non lo raggiunge Perché ho i frame di invincibilità Mentre sono sdraiato a terra Questa è la logica di quell'attacco E anche di tanti altri Di tanti altri source Che solo chi usa lo scudo Spesso riesce a capire Quindi se io paro quell'attacco Muoio Se non lo paro Sopravvivo Anche con Radan C'era una mossa del genere Ma io punto a stunnarlo Perché Da stunnato Gli fa davvero male Niente Non si stunna Ha già assorbito i colpi Ah è quello qua Ma io prima Non si vuole resturnare Il bastardo Dai Ah, yeeeeh E ha smesso di fare gli attacchi Che lo rendono esposto sto bastardo Vabbè Boss starà ignorante ma va bene Però basta con sto boss davvero è il terzo È il terzo Bon cagherio c'è altro da fare nel deserto e gg Allora non ho detto nulla perché magari sembrava inopportuno dirti che stasera sei più bello e nitido Magari poi tutti i tuoi uomini si ingelosivano Guardate a parte si vede davvero molto bene Va bene grazie c'è Lenina Chiudo le cuffie Sono strette Ok Nel deserto penso sia tutto Tutto quel popò di mappa solo per questo Peccato Bella eh però Va bene Quindi possiamo dire che la zona rossa è gg 100% basta Non c'è più niente qui Qua c'era un portale chiuso Ora che ci penso Voglio andare a rivederlo perché non mi ricordo più come era fatto Che bei ricordi questo posto Ah c'era il barile di merda è vero Tu sai cosa bisogna fare col barile di merda cagherio? Lo sa ragazzi e ce lo dirai cagherio? Sarai così gentile? Ma si è riattivata quella cosa? No Eccola qua Questa qui Così quando la levetta impazzisce Almeno capisco che è davvero la levetta E non è il gioco Allora è spoiler Che se ne fotte C'è una sfida davanti a lui C'è una sfida E perché io non l'ho vista questa sfida? No aspetta quelle catacombe erano chiuse mi sa Sono quelle che ci hanno chiuso la porta appena siamo entrati Che pal E allora devo andare da qua Guarda come tankano ancora Non mi levano più un cazzo però Bella sta zona Per me rimane la più bella Del gioco fino adesso Sarà perché lugubre horror fa paura Ma non le avevo uccisi sti qua sotto No la levetta impazzisce di nuovo Ragazzi Ha ripreso Ha sentito l'odore Ma no c'era un altro falò Dai C'era un'altra grazia della minchia Che mi faceva partire già da sotto Questo qua Il posto profondo dello zio fra Oh no i bruchi esplodono Eh vabbè niente Va bene Non si capisce quando stanno per scoccare sti bastardi Grazie a tutti e vola Ah avevo beccato il tempismo giusto E me l'hai sparato a cazzo Ah questa era senza Gambe esposte è vero Aveva le mani lui le mani E niente Ma c'è ancora l'arco in mano Ma cambia arma Non ne hai altre? Tutti nel culo Che devo fare adesso? Che quanti servirà affrontare uno alla volta Cioè Segni rossi Ah pensa a te C'era da fare sta roba Non l'ho vista proprio Ma non l'avrei mai e poi mai cliccata Sembravano delle macchie di sangue un pochino più illuminate Eh big Eh no Eh vabbè Ma quanto odio sti attacchi ad aria L'ho mai detto che odio gli attacchi ad aria In questo gioco ragazzi Sta lì con scudo Spada lunga dico Vabbè Non può avere attacchi ad aria C'ha già una spada lunga No Attacco ad aria Sono diversi da quelli che avevo io Azz Ma mica dovrò riammazzare i golem di nuovo Vero No Se li provo a schippare Rompono le palle Rompono le palle Vabbè ma solo questo rompe le palle In teoria Dai quello posso evitarlo Romperà il cazzo giusto adesso No rompe il cazzo pure l'altro Oh no No Fa cacare Da lì non può Oh no E allora Mo' ho aggiustato la mira Com'è Eh cazzo ho dovuto farlo Desponare la mappa E mi sa che son cambiati si Questo non Era in mezzo la tipa che ho evocato prima Vabbè Ma quanto cazzo è sgravo Nooo Anche lui sta mossa di merda Così si affrontano gli NPC Correndo Li fai attaccare Via Ah no ma si è creata una barriera Quindi forse Anche l'altro golem Non mi hit Ma come è possibile Che era già entrato in animazione Oh no Eh vabbè Oh no Credibile oh Hmm Hmm Oh no Oh no Ne bastava uno Dovevo scegliere tra quei tre Giusto Col cazzo Li devo uccidere tutti e tre Va bene Cosa hai scoperto Big Fottio di vita pure noi Cosa hai scoperto Cosa hai scoperto Un po' scemoto questo, eh. Come non detto, scusa. Eh, niente. Che esiste un Liquid Snake 8 e gioca a FIFA. Che figa, ne esistono 45.000 di Liquid Snake, big. Il problema era quando avevo... Avevo il nickname Liquid Snake 992 e c'era un altro che si chiamava Liquid Snake 92. E ogni volta mi confondevano per quel tizio. E a volte venivano qua e mi dicevano Ah, ma tu sei il moderatore di Sherry? Io no, chi cazzo è Sherry? Oh, è pure lo premuto, eh. È lunga a piedi. Sì, ma se mi hitano col cavallo è stra-GG. Il cavallo fa cacare, va giù con una freccia. Ah no, queste le tanca. Eh, allora va bene. Col cazzo che le tanca. È stato solo culo che non è morto con quella freccia. E io lo sapevo, lo sapevo che il cavallo mi avrebbe fatto incazzare in questo gioco se io avesse cominciato ad usarlo. Lo sapevo, per quello evitavo di usare il cavallo. Che dolore. Ma tutti e tre in una volta li dovrei fare! Ma non c'era la barriera lì? Ah no, perché ancora non l'ho evocato. Aspetta. Mi sto col pugno, ma what? No, questa era vicina. Ma dai, ma perché non c'è la barriera? Provo io a scappare, però c'è. Io lo uso contro di lui, vaffanculo. Eccolo lì. Ora cominciano questi attacchi di merda che mi tolgono vita anche se paro. E a distanza... Finisco tutte le ampolle e non posso fare gli altri due. Madonna, che due coglioni. Eh vabbè. Eh vabbè. Eh vabbè. Grazie a tutti Ma come no? Sono 16 anni e credo fossi moderatore di Mon Cherie Devi stare molto calmo Tu quando sei arrivato poi? Cosa ha mandato? Che cazzo è quell'emote lì? Cosa ha spammato lì sopra? Che ha fatto? Il culetto di papera Niente Ma quanto tempo passi in quel canale Che c'hai ogni volta la sub attiva Gipsabbato da chissà quale drogato Avevo fatto la sub 6 mesi da te e 6 mesi da lui Pesante Quindi ci ami in ugual modo Merita? No no merita Merita è simpatico Mi piace Poi fai giochi each.io ragazzi Merita solo per quello Avevo finito la stamina Non potevo rollare Ma se le paro? Perdo vita comunque Ma che se non si riesce a girare in tempo E quindi la scocca comunque Quanto sono imbecini Ma è Gomboni Quindi hai saputo la triste notizia Gomboni Come farai senza di lui adesso Gomboni Eh chi altri Gomboni? No due lance Chissà che cazzo fa adesso sto tipo Basta non faccia magia del cazzo Eccola lì Subito l'ha fatta Appena l'ho detto cazzo Oddio sembra boicottarlo abbastanza Aver due lancia Eccoli Buonanotte E non è partito il backstab Mi ha colpito Vabbè Perché non mi hai ucciso Basta con queste mosse del cazzo Eccola lì Eccola lì No, non ce la faccio ad ammazzarne tre razzi. Non si può. Ci vuole troppa pazienza che io in questo momento non ho. Però quante cazzo di robe danno. Ci ha fatto bannare anche da nola. Eh, lo so, per quello dicevo. Cosa ha fatto Johnny? Ha fatto il Johnny. Cavaliere del grande vaso. Eccola lì che spara magia della minchia anche lei. Cosa vuoi fare? I perdi? Ma sei pazza? Ma mancherebbe solo quello, guarda. Ma siamo sicuri che non ne basta una. Ciao, Yuruma. Eh, vabbè. La domanda è una buona. Potreste fare i raid anche se non sono affiliato? Sì? Dai, ma come fai a non essere affiliato se streammi? Dai. Cioè, i requisiti minimi sono tipo... Che può entrare chiunque. Ma anche se metto lo sprint, mi intano una volta e muoio, caghero. Dai, a che cazzo serve sta merda? Puttana, togliete il cavallo dal gioco. Eccola, a che cazzo serve. Vabbè, ma le fai presto tre persone. L'affiliazione è abbastanza easy da ottenere. La partner che è impossibile. No, no. Mmmmm. Che cazzo fa? Ma cosa attacchi? T'ho detto di rollare, matta! Questa è scarsina però Che ha fatto mo? Che è? Dai a ridaglie Vabbè Che fastidio! Basta! Poi non togli un cazzo sta mossa Non pensano i coglioni Basta con quella merda Che illumini ogni volta Puttana Tanta stabilità Che non si stordisce Mentre usa l'oggetto Ah boh Eccolo lì Che famo Sto matto Questo lo faccio tutto così Sì sì Guarda che matto In culo che è Ma come sanguina me? Non avevo visto la barra? Cazzo è vero C'è la barra del sanguinamento Cazzo è vero Nooo Quello coi due spadoni Nooo E vabbè Almeno lo conosco già Direte voi Iscriviti al canale io chiamo la polizia adesso dai io chiamo la polizia chiamate la polizia gomboni chiama la polizia si era buggato e mi ha dato tipo lo sprint infinito mi ha salvato il culo sta cosa che vita di merda no beh è stato onesto puttana tutto almeno mi ha ucciso subito poteva essere più stronza aspettare che avesse 10 hp prima di farlo invece dai peccato che la lievetta è tornata ad essere troia questo che cazzo è un altro nuovo ancora no ste magie di merda guarda spammato sono quella no no da vedere è molto figo da giocare comincia a rompermi coglioni questo gioco davvero no 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 Sì Cavaliere del grande vaso No no Visto che non faceva magie Che aveva una difesa di merda Ho detto almeno tantissimo Questo è mago adesso Che cazzo mi tira Ma scappi Cosa mi da Sideramento Eccolo lì Adesso ditemi perché quello non era un backstep secondo il gioco Ma era tirato dall'altra parte Ho preso quella sbagliata Vabbè porca puttana Nooo Big Ma se non me Cosa vuol dire sta mossa Ma che schifo è Dai Dai sono dentro E mi hitava comunque Gomboni Fai qualcosa Ecco Cavaliere pesante A posto Tvb Tvb Big Che Non ha Io non gli levo un cazzo Ah ok Non è la stessa Meno male Pazzivo se no Boni che questo sembra scarso ragazzi Buoni tutti Nooo Ne ha una anche lui Pensavo fosse quella che sputa Cosa fa? Cos'è? Che ha fatto? Eh? Vabbè Nooo Perché il mio colpo non l'ha stunnato E mi ha attaccato subito Perché? Sì sì Loro usano quelle magie Tutte quelle troiate Io l'unico stronzo Che non usa un cazzo Bello Nooo Nooo Vabbè Come ha fatto a colpirmi Quello che c'è la roba davanti Dai GG Ma quale stabilità Che l'avevo stunato con tutti gli attacchi Prima di quello Dai secondo te mi metteva ad attaccarlo Se non ero sicuro di non distordirlo Su Che cazzo ha ammazzato Ha ucciso un'aquila A mostro E anche le vanno ucciso guardandole negli occhi Non così Che fa questo No ma Ancora un pochino di più Potevi aumentare La cazzo è freezer Eh vabbè What? What? Non stanno più dando anime Nemmeno Un altro mago Crescino Mancava quello che sparava fuoco Hanno sputato tutto tranne quello Fino adesso Cosa sto vedendo Dai io come le ammazzo Una roba del genere Hai finito Cosa stai facendo? Dai che sei senza stamina Stronza Brava Rolla Rolla Che sei ancora Ne hai ancora di me Non su E niente No che fa magia Se mi allontano Aia No è quella schifosa lì Quasi me l'ho messa di nuovo Io mi levo dai coglioni Se fai quella roba là Non hai capito Non 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 Beh beh vabbè non non ma non C'è la fata quel bastardo Mi son messo dietro la collinetta Apposta Ma com'è possibile Ah non l'hai caricata Quattro volte tu Vabbè non c'era Ma c'hai ragione tu Scusa se ho pensato il contrario I don't Come può la sua arma essere più veloce Della mia Ma cosa sto vedendo Ma quante ne hanno Nooo Che poi è questo che mi fa incazzare a me Non è morire contro loro È fare sta strada in mezzo ai golemi ogni volta con sto cavallo di merda È quello che mi trigger Perché adesso so che quello dietro mi colpisce e mi devo incazzare Anche se metto 15.000 ostacoli tra me e lui Ho anche dimenticato Perchetto Quattro Quattro Perchetto Quattro Ancora Perché non c'era il backstab lì Dai 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 Grazie a tutti. 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 Ma ha preso il volo ed è andata giù da sola. Che cazzo è successo? Vabbè dai rifacciamo la strada col cavallo, è bella. No? 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 Grazie a tutti. Oh, che se ne fotte, ma secondo te uso l'ampolla per chiamare quel cavallo di merda, ma cosa ti viene in mente? Ma sta bene lì, ma si fotta. Oh, che se ne fotte. Oh, che se ne fotte. Che bello che tra mezz'ora si cambia gioco, mamma mia. La mia parte della giornata preferita quando tolgo sto gioco. Ma come, rotta? Ma no, è completamente legit, non hai visto? Non mi ha assolutamente stunlucato per due volte consecutive tra le sue cazzo di braccia. Ma è che domani c'è tasso. Sì, 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 ho messo tutto, quindi ho messo tutto. No, no, dovrei aver installato tutto, tutto, ragazzi. Di tutto quello che c'era nel vecchio PC. Anche autobrakeggiato è già testato, funziona. Ho un altro nuovo. Cavaliere del grande vaso. Se l'è mangiato il grande vaso, questo. ecco l'olio. che... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, muore questo e quanta cazzo di ampolla mi è rimasta, un cazzo. E niente. No, non è andato giù questo, è il peggiore, è il peggiore. Cioè io se vedo questo qua nelle invocazioni d'ora in poi mi butto di sotto per farle cambiare, cazzo. Non aveva magie ma porca puttana non muore, non muore, l'ho colpito tanta volte, non muore. Ah ma è solo un premio, non c'è un boss lì, non c'è un'aria dietro il vaso? Che vita di merda. Grazie per lo spoiler comunque, GG. Grazie. Hai fatto piangere Kenkaverio, guarda, guarda cosa hai fatto. Ma dai, ma perché? No, aspetta, non è lo stesso. Aveva uno scudo l'altro. E questo fa magia del cazzo. Ok, a meno difesa. E poi è una donna questo. Oh ma la marce scienza sc... Ah no, è sanguinamento quella roba lì. Ma what? Vabbè quanta stamina che c'è ancora nonostante quell'attacco, guardala. Come se non avesse fatto un cazzo. So, полезно. Ok. 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 bubba va bene va bene ma porco di quella ok mi concentro mi concentro ma è l'ultima volta lo faccio più focussato possibile se va a puttane questa leviamo sto gioco di merda c'è l'elina tu ci sei vero mi sa tanto che comunque vada questo gioco lo rivedrete tra molto nel mio canale ragazzi mi ha veramente rotto le palle basta basta mi ha dato fastidio mi ha dato fastidio due live fa mi ha dato fastidio nell'ultima live mi ha dato fastidio anche adesso non riesco più a godermelo è un gioco troppo lungo io sono uscito dal mood ragazzi non ho più la gioia che avevo prima ok fuo gussato non ho più la gioia 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 Forza. Ma rompi i coglioni, vieni sul disco. Dai, 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 voglio sentire storia. L'ho visto, l'ho visto. È anche stato trattato subito come merita. No, scherzo. Povero non l'annino, gli voglio tanto bene. Che belle che sono quelle morte, cazzo. Non lo so, ragazzi. Il The Ring lo rilego alle live pomeridiane, ragazzi. Quando veramente non so che cazzo fare, dico basta, streamo il pomeriggio. Non c'ho più voglia. Mi ha perso, lo trovo troppo, troppo lento, troppo open world, troppo, troppo, poi sto fattore RNG mi fa rodere il cazzo. Cioè, vabbè, adesso sono morto da coglione, contro questo me la potevo giocare molto meglio, però porca puttana, 15.000 maghi con 15.000 mosse che sciottano, stunano, danno status, stronzate varie. Ma cosa sto vedendo? Che bella la patata di Winto. Non sei per nulla calmo, comunque, eh. Non vorrei dire che non sei calmo. Ti vedo, eh. Ti vedo lì col cappellino arancione, ti vedo. Non dico niente. Ciao, liquidino, ciao, chat. Cazzo è successo, sono stato via, mi rimetto a sedere, nel momento esatto in cui mi metto a sedere, sento l'ammestizia proprio. No, è da un'ora e mezza che sto affrontando sempre tre stronzi che continuano a cambiare, a one-shotarmi con mosse del cazzo. Eh, mi sono rotto un po' i coglioni. In quanti ti hanno detto che sei sottolibellato? No, no, nessuno, ma manco lo si può dire, perché comunque riesco ad ammazzarli, quei cosi. È solo che devo beccare nell'RNG giusto che mi capitano tre stronzi scarsi tra loro che non mi fanno mosse che one-shotano. Tutto qua. E a me non è più capitato nell'ultima mezz'ora.